Se c'è qualcosa in cui io credo è questo, la letteratura deve provocare, Willy Wonka fa ridere, è simpatico, è un birichino birbante, ma è spietato ragazzi! C'è anche del body shaming pure all'interno della fabbrica di cioccolato, ora che ci penso? Sono tornata! Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale della vostra Mary Jekyll, il canale YouTube dedicato alla letteratura tra oscurità e provocazione. Sono tornata ragazzi dopo una bella pausa, dopo aver pubblicato quel messaggio nella sezione community di YouTube in cui vi spiegavo il motivo, insomma vi ringrazio per la vostra pazienza, perché purtroppo è venuto in questo periodo a mancare mio nonno, tra l'altro uno dei nonni a cui ho dedicato il Mary Jekyll racconta, una delle mie rubriche, quindi ecco non me la sentivo di comparire, ma adesso sono tornata e vi parlo di qualcosa di molto molto interessante, Roald Dahl. Questo periodo mi sono data all'audiolettura, non mi sono mai dedicata all'audiolettura in maniera consistente, ma grazie a una promo di Odibole ho deciso di buttarmici così, diretta. Ho deciso di partire, di far iniziare il mio percorso con quest'autore, Roald Dahl, quindi sono partita dal mondo dell'infanzia, perché ho ascoltato i suoi scritti dedicati proprio all'infanzia. Il primo audiolibro suo che ho ascoltato è Le streghe, poi mi è piaciuto così tanto ascoltarlo che sono andata avanti con il GGG, sono andata avanti con gli sporcelli che mi ha fatto morire da ridere. Ho ascoltato anche La fabbrica di cioccolato e Il seguito, Il grande ascensore di cristallo. Il mio preferito però, quello che mi è entrato nel cuore, è Matilde, di cui adoro anche la trasposizione cinematografica che è stata fatta negli anni 90 con Denis De Vito. Bene, partiamo un po' da un discorso che volevo fare su Roald Dahl, ovvero sul suo essere politicamente scorretto. Io devo parlare di queste cose perché per me è assolutamente necessario. Il mio canale YouTube è dedicato alla letteratura tra oscurità e provocazione per un motivo, perché se c'è qualcosa in cui io credo è questo, la letteratura deve provocare, smuovere gli animi, non farci rimanere in una zona di comfort, magari anche, sì, per carità, io per prima cerco anche di farmi cullare dalla letteratura, però il far si cullare non è sufficiente per far sì che noi cresciamo, che noi apprendiamo qualcosa di nuovo e che noi capiamo anche i nostri sentimenti, perché anche i sentimenti oscuri appartengono all'animo umano e non dobbiamo assolutamente prenderci in giro su questo. Cosa importante che ci insegnerò al Dahl secondo me è questa, i sentimenti oscuri appartengono anche al mondo dell'infanzia e bisogna assolutamente metterli in luce, se non esaltarli addirittura. Ascoltando tutti questi audiolibri mi sono detta cavolo c'è un fil rouge qui, c'è qualcosa che li tiene assieme, c'è qualcosa che li lega e quel qualcosa non è semplicemente parlare ai pupattoli, è parlare ai pupattoli di sentimenti come l'ira, la vendetta, anche il gaslighting, quindi anche cose tossiche, mi spiego meglio. Partiamo dagli sporcelli, il suo gli sporcelli è sì dedicato ai bambini e sicuramente fa ridere i bambini, ma inevitabilmente fa pensare alle dinamiche di una relazione tossica, fa pensare a una coppia di anziani schifosi, bruttissimi, sui quali tra l'altro si fa body shaming, a più non posso, ve lo posso assicurare, si parla di dinamiche di coppia pericolose, eppure estremamente divertenti, eppure sulle quali non si potrebbe raccontare una storia se funzionassero in maniera lineare, non sarebbe assolutamente possibile e non coinvolgerebbe nemmeno le persone, figuriamoci i bambini, ecco, che hanno bisogno anche di elementi concreti per rimanere incollati a un libro, o in questo caso a un'adiolettura, no? Per chi non conoscesse la storia degli sporcelli di Roald Dahl, è la storia di una coppia di ex circensi, i signori sporcelli, che sono tanto brutti fuori quanto sono brutti dentro, nel senso che sono talmente sporchi che puzzano da far schifo, non si lavano da un'eternità, il cibo rimane incastrato tra i peli della barba del signor sporcelli, che ogni tanto dà una leccatina a quella, la signora sporcelli è priva di un occhio, ha un occhio di vetro, che ogni tanto le cade via, fanno veramente schifo, sono una delle coppie più orrende della letteratura, forse. E gli sporcelli ci racconta di tutte le piccole e grandi vendette che questi due personaggi si scagliano l'uno contro l'altro. Non solo, loro sono anche degli ex circensi e hanno mantenuto un vizietto tipico del loro mestiere, ex mestiere, cioè torturare gli animali o comunque maltrattarli, infatti hanno delle scimmette di cui si prendono sempre gioco, ed è quello il senso che danno alla loro vita. Poi successivamente da questi animali che sono rimasti imprigionati vengono puniti e in questo senso vediamo anche quanto è importante per la trama la vendetta da parte anche dei giusti, coloro che hanno sofferto, cioè gli animali in particolar modo le scimmette. Tranquilli perché fanno del male anche agli uccelli, quindi non ci facciamo mancare niente, ma anche i bambini. E in tutte queste dinamiche veramente buffe è presente anche il gaslighting. Per chi non lo sapesse il gaslighting è una tecnica di manipolazione molto diffusa che porta la persona che è carnefice a far credere alla vittima delle cose che in realtà non sono vere, modificando la sua percezione della realtà, che non è la cosa francamente più piacevole del mondo ovviamente nella vita reale, ma all'interno della letteratura è bellissimo vederla raccontata, è bellissimo percepire anche gli effetti comici che ha tutto questo. Per esempio la signora Sporcelli è vittima di gaslighting da parte del marito perché le viene detto dal marito che è affetta da restringite. Questa si convince della cosa e il marito fa di tutto per cambiare l'ambiente attorno a lei e farle credere che davvero è affetta da restringite. C'è una malattia fantasiosa che la porta a restringersi sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a diventare una roba. La signora Sporcelli cerca di fare di tutto per ritornare a essere lunga, perché cosa fa il signor Sporcelli per creare un ambiente tossico attorno a lei? Prende il suo bastone e lo allunga piano piano per farle credere di star diventando sempre più piccola, oppure modifica anche lo spazio attorno a lei. Cosa curiosa tra l'altro, i personaggi cosiddetti buoni, quindi gli animali che poi si vendicano dei signori Sporcelli che li maltrattano, fanno la stessa cosa, fanno credere loro di essere pazzi all'interno della loro stessa casa, spostando i mobili, mettendoli anche sotto sopra. E qui sorge spontanea una domanda, ma quanto è politicamente scorretto Roaldale è giusto insegnare ai bambini cose di questo genere? Sì, sì, sì ragazzi, ragazzi, se censuriamo questi elementi perché sono brutti e cattivi, allora censuriamo tutta quanta la letteratura, perché la letteratura si fonda su questo e se non provoca, se non fa muovere il cervello, se non ti fa ridere anche per dinamiche tossiche, che cavolo di letteratura è? Questo io penso francamente, poi scrivetemi nei commenti la vostra se la pensate diversamente, ma io mi oppongo in maniera anche piuttosto dura anche a quello che l'anno scorso è stato un lavoro di censura sui lavori di Roald Dahl, perché spesso sono state rintracciate queste dinamiche tossiche nelle sue storie. E non solo, soprattutto termini tossici che fanno pensare anche al body shaming che ho già citato prima, infatti i signori sporcelli vengono descritti come orrendi, vengono presi in giro proprio dalla penna di Roald Dahl per la loro bruttezza e la loro sporcizia, lo schifo che hanno fuori, ma che rappresenta benissimo lo schifo che hanno dentro. Quindi a livello simbolico funziona perfettamente. E perché non raccontare una storia di questo genere? Perché non provocare elementi anche su questo? Poi ovvio starà ai genitori dei bambini spiegare loro che in realtà una persona che è brutta non è necessariamente cattiva, ma all'interno di un'opera ha questa la sua funzione. E questa funzione non va assolutamente negata. E' importante sottolinearlo secondo me, altrimenti non capiremmo davvero il senso dell'arte e della letteratura. Parlo anche dell'arte perché ovviamente la letteratura è una forma d'arte che si deve esprimere liberamente proprio per questo, ne ha il diritto e anzi ha pure il dovere, secondo me in alcuni frangenti, di colpire. Anche quando si tratta di educazione dei bambini, anche se qui parliamo di un mondo che riguarda anche gli adulti, perché leggere Roald Dahl o audio leggere come ho fatto io Roald Dahl è qualcosa di significativo anche per il cervello di noi adulti. E per me francamente le opere dedicate all'infanzia non sono solo da far leggere ai bambini, sono anche da far leggere agli adulti, perché ovviamente un adulto percepirà la storia in maniera diversa rispetto a un bambino, inevitabilmente. E' necessaria questa reazione, anche tutti questi ragionamenti che devono fare gli adulti riguardo alle opere. Poi vi dicevo che la vendetta non riguarda semplicemente gli sporcelli in Roald Dahl, no, riguarda anche tutte le altre storie, riguarda anche il mio personaggio preferito, cioè Matilde. La storia di Matilde è la storia, per chi non lo sapesse, di una bambina intelligentissima, che impara a leggere prestissimo, che cresce in una famiglia nella quale la lettura non è assolutamente importante, anzi è una famiglia truffaldina, è una famiglia che non pensa che la scuola sia qualcosa di fondamentale e che anzi crede nel lucro senza scrupoli. Cosa in cui Matilde non crede, che sviluppa, diciamo, Matilde sviluppa la propria identità basandosi unicamente su se stessa e su quelli che sono i suoi desideri, principalmente imparare, imparare cose nuove e immergersi in storie che rendono possibili dei mondi apparentemente impossibili. Cosa particolare in Matilde è la magia, che scopre non appena scopre anche la rabbia, scopre un senso di vendetta. Lei scopre di avere il potere della telecinesi, può spostare oggetti, può spostare tutto ciò che desidera e lo scopre quando incontra per la prima volta a scuola o tra le prime volte a scuola il personaggio della Spezzi in due, cioè la preside iper crudele della scuola appunto in cui va. È una preside cattivissima, una preside che odia i bambini e che non accetta nulla che appartiene al mondo dei bambini, costringe i bambini che non rispettano le regole a stare in una specie di vergine di ferro chiamato strozzatoio, li prende in giro, li tortura psicologicamente pure. Per esempio quando un bambino chiamato Bruce ruba una sua fetta di torta al cioccolato, una delle sue preferite, lei non si limita ad andare su tutte le furie, ma organizza una sorta di conferenza, non so come chiamarla, in cui lo fa salire sul parco e cerca di umiliarlo pubblicamente facendogli mangiare una torta al cioccolato intera, dicendogli beh, hai voluto la fetta di torta di cioccolato che sarebbe dovuta finire nel mio pancino adesso, te la mani tutta quanta, anche se non hai fame, davanti a tutti. Quella scena di umiliazione è molto divertente. La Spezzi in due cerca di umiliare i bambini anche in altre maniere fa pure del male fisico, anche quando prende una bambina per le trecine, perché a lei fanno schifo le trecine, e la lancia usando la tecnica del lancio del martello, perché lei è iper sportiva, è muscolosa, è veramente divertente tutto questo. E parlando, visto che è il personaggio cattivo, la nostra bambina protagonista, Matilde, cosa fa in risposta a tutto questo? Non risponde con una certa bontà d'animo, certo per carità è tra i buoni, Matilde sarebbe stupido negare questo, però lei reagisce vendicandosi sulla Spezzi in due, e le fa credere di essere pazza in certi punti, quando lei sfrutta appunto il potere della telecinesi, facendole cadere addosso, rovesciandole addosso un bicchiere d'acqua, nel quale c'era un gecko, non mi ricordo se fosse un gecko, accidenti, un tritone, no, era un tritone, perché le fa pure lo spiegone, no, sul tritone, sì, credo di sì. Ed è bellissima poi la reazione spaventata della Spezzi in due, che non riesce a spiegarsi nulla di tutto questo. E Matilde, a un certo punto della storia, quando tutto è bene quel che finisce bene, diciamo, perde i suoi poteri collegati alla telecinesi, perché non ha più bisogno di essi, non ha più la necessità di sfruttarli, perché non prova più quel senso di vendetta, non prova più l'ira. È particolare questa scelta da parte di Roald Dahl, donare il sentimento dell'ira ai buoni. Cosa che però, a mio avviso, non accade nella fabbrica di cioccolato, perché nella fabbrica di cioccolato credo che l'ira appartenga a qualcun altro, però c'è sempre la vendetta. La vendetta è sempre qualcosa che collega all'opera per l'infanzia di Roald Dahl. Mi spiego meglio, continuate a seguirmi in questo ragionamento, poi ovviamente ditemi sempre la vostra nei commenti. Però la vendetta nella fabbrica di cioccolato si sente proprio... cavolo se è presente, è presente come forma di punizione. Come forma di punizione i bambini che si comportano in maniera sbagliata, nel senso che simbolicamente rappresentano anche i peccati capitali, se vogliamo. La fabbrica di cioccolato, ma sicuramente conoscerete la storia, difficile che non la conosciate, anche per le trasposizioni cinematografiche che sono state fatte dalla fabbrica di cioccolato, che sono bellissime. Non ho visto l'ultima, però ammetto. Sa di fatto che è la storia di Charlie, un bambino poverissimo, ma poverissimo, poverissimo. Cosa che fa super impressione a mia nonna, perché adesso sto facendo ascoltare l'audiolibro anche a mia nonna. Ciao nonna! Talmente povero che non ha nulla da mangiare, per lui il cioccolato è addirittura un lusso, qualcosa che va oltre l'immaginazione. Charlie però riesce con un colpo di fortuna a vincere uno dei pochissimi biglietti al mondo che gli permettono di essere invitato presso la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka e gli permettono di visitarla. È la fabbrica di cioccolato più incredibile, favolosamente favolosa del mondo e al suo interno avvengono assurdità e magie che riguardano il mondo dei dolciumi. Gli altri bambini che hanno vinto i biglietti d'oro per poter visitare la fabbrica di cioccolato con il personaggio di Willy Wonka sono dei bambini in realtà non tanto interessati al mondo della fabbrica in sé, mentre Charlie è l'unico che, grazie alle storie del nonno, ha saputo tanto della fabbrica di cioccolato, della sua nascita e soprattutto del proprietario Willy Wonka che è un personaggio incredibile, è un personaggio in cui mi ritrovo tra l'altro per certi aspetti. Ma ci arriviamo. All'interno della fabbrica di cioccolato quando i bambini fanno il loro percorso per visitare ogni singolo macchinario per vedere come si sviluppa un dolciume partendo dall'idea poi ecco il business di Willy Wonka vanno a scoprire visitando questa fabbrica. Il punto è che gli altri bambini non solo sono viziati e quant'altro ma non credono fondamentalmente nel lavoro di Willy Wonka, non credono nel suo business, sono lì solo per, forse per dire agli altri che hanno visitato la fabbrica di Willy Wonka e Charlie è l'unico, il poverissimo Charlie accompagnato dal nonno a visitare la fabbrica è l'unico realmente interessato al lavoro di Willy Wonka, è l'unico che crede davvero che la magia avvenga all'interno di quella fabbrica e che possano comparire tutti i dolciumi possibili e immaginabili del mondo. E non solo dolciumi che si mangiano, si mangiano, si gustano per carità ma che hanno degli effetti particolari. C'è anche del body shaming pure all'interno della fabbrica di cioccolato ora che ci penso, perché c'è pure un bambino grasso, Augustus, anzi obeso, che rappresenta inevitabilmente, secondo me, il peccato, forse neanche solo secondo me, il peccato della gola, che non si fa scrupoli a mangiare qualsiasi cosa e che per questo suo comportarsi male da questo punto di vista viene punito. Perché nel percorso lui stesso si perde e a un certo punto perché cerca di leccare un fiume di cioccolato ci finisce dentro e poi viene risucchiato da un tubo che rischia di trasformarlo non in toffolette ma in deliziose praline ripiene di fragola. Willy Wonka è un personaggio interessante perché si rappresenta il mondo dei buoni in questo senso, Charlie è quello semplicemente più buono, più canonicamente buono. Ma Willy Wonka cosa ci dice sul tema della vendetta? Ci dice qualcosa di molto interessante con una sua caratteristica peculiare, cioè la mancanza di empatia nei confronti dei genitori e dei bambini. Cioè quando per esempio Augustus viene punito in questa maniera per il suo peccato di gola e i genitori lo supplicano di salvare il bambino, Willy Wonka si preoccupa unicamente di una cosa. Mi guasterà il cioccolato. Cavolo, tiriamolo fuori da lì perché se no mi si rovina il cioccolato. Mentre i genitori sono disperati e non vogliono vedere crepare il proprio bambino in maniera brutale. Willy Wonka non si fa alcuno scrupolo, non ha alcuna empatia per i genitori. Anzi, lui dice tranquilli, comunque verrà salvato, vedremo cosa fare, lo riaverete indietro. Ma come se fosse esattamente uno dei suoi giocattoli per creare il cioccolato. Diciamo, non nulla. Se poi crepa, vabbè, chi se ne frega. E lo stesso vale anche per gli altri bambini. La bambina avida che cerca di fregargli uno dei suoi scoiattoli grandi lavoratori, che aprono le noci, viene punita per la sua avidità. Poi c'è Violetta anche per una certa superbia. Insomma, è tutto un continuare, un percorso di visita, una gita nella fabbrica di cioccolato, che è però una gita che prevede delle punizioni ben pensate, ben pensate in base alla psicologia del bambino che viene punito. Poi alla fine del percorso, Charlie è l'unico che si salva perché lui è quello genuinamente più puro, che quindi riceve il premio finale, cioè la fabbrica di cioccolato in sé. È quello genuinamente più puro, ma anche quello, tra l'altro, sinceramente interessato alla fabbrica di cioccolato, perché è l'unico tra i bambini a non criticare il lavoro di Willy Wonka, a non mettere in dubbio, a non mettere in discussione la validità del suo mestiere. Perché Willy Wonka, quando presenta ogni singolo elemento del suo mestiere, ci tiene, non solo è molto orgoglioso, ma ha fiducia anche in quelle che sono le sue idee, ha fiducia nei test che fa sui nuovi dolciumi che crea. E tra l'altro, non per dire, ma sfrutta gli Oompa Loompa, che sono gli operai della fabbrica di cioccolato, come test, per vedere se i suoi dolci sono sani o malsani, vanno bene o non vanno bene, e tanti Oompa Loompa o rimangono offesi, o finiscono per crepare in buffe maniere, o, non so, volare in cielo come palloncini, mai più ritrovati. Dicevo, mi ritrovo un pochino in Willy Wonka, perché ha delle caratteristiche che lo rendono molto interessante, i miei occhi come personaggio, pur essendo parte del mondo dei buoni, chiamiamolo così. Tuttavia, lui prova una sensazione particolare davanti ai bambini, cioè, io ho la tendenza a non andare particolarmente d'accordo con i bambini maleducati, mi irritano, mi danno molto fastidio. Penso di reagire più o meno come Willy Wonka, davanti ai bambini che rompono. Questa cosa mi fa ridere, non so se preoccuparmi oppure no. Vabbè, mentre Charlie è un bambino estremamente educato, Charlie è un bambino anche interessato al suo lavoro, quindi è giusto che venga premiato dal punto di vista di Willy Wonka, estremamente coerente. Poi, da un punto di vista più ampio, più simbolico, rappresenta una purezza, anche data dalla sua umile origine, dalla sua povertà estrema, rappresenta una purezza che non ha le colpe di cui si macchiano gli altri bambini, stronzi, antipatici, rompipalle, che non credono tra l'altro nel lavoro di Willy Wonka. Poi ditemi la vostra nei commenti, ovviamente. Fatemi sapere anche se avete visto l'ultimo film dedicato al mondo della fabbrica di cioccolato. Comunque, nello scritto di Dahl mi sembra che emerga questo tipo di lettura del mondo. È ingiusto quindi pensare alle opere di Roald Dahl come qualcosa da limare, perché se le limiamo, censuriamo alcune parole, perdiamo realmente il succo della storia. E per me, a mio avviso, è anche giusto che i bambini entrino in contatto con quelli che vengono considerati sentimenti negativi, altrimenti poi, crescendo nella vita, non faranno mai pace con i propri sentimenti negativi. È giusto riconoscere il bisogno di vendicarsi di un bambino. Certo, non voglio dire che bisogna insegnare ai bambini che la vendetta è la soluzione a tutto, anzi, è manifestazione spesso anche di un dolore, in alcuni contesti, di qualcosa che non funziona, qualcosa che non va. Ma negarla significa rattrappire ancora di più dei sentimenti. E questo, secondo me, vale tanto per i bambini quanto per gli adulti. Per questo, per me, è importante vedere personaggi che provano questo tipo di sentimento. Crudele, anche spietato, perché Willy Wonka fa ridere, è simpatico, è un birichino birbante. Ma è spietato, ragazzi! È spietato ed è un bene che lo sia. E le opere di Dahl sono riconosciute come tali anche per questo tipo di caratteristica, anche per il gaslighting presente nel mondo degli sporcelli, anche perché Matilde si vendica sulla trinciabue. Trinciabue come la chiamano nel film, spezzi in due, nel libro. Trunchbull, in inglese. Questo, insomma, è ciò che penso sulle opere di Dahl. Avendole ascoltate in audiolibro, ho avuto, in parte che è stato bellissimo immergersi in questi mondi assurdi, spericolati e anche surreali, oserei dire, perché c'è una surrealtà che mi ha affascinata tantissimo. E comunque mi è venuto da pensare a quanto sia necessaria l'operazione che ha fatto Dahl nella stesura di questi libri. Poi è un autore che intendo approfondire anche da altri punti di vista in futuro. Infatti qui ho scovato ecco ho scovato nella mia libreria un'opera di Dahl che avevo lasciato lì non l'ha mai letta ma penso la leggerò quest'anno che è Lo zio Oswald che è uno scritto non pensato per i bambini ma per gli adulti visto che parla di tematiche particolari come la sessualità gli afrodisiaci eccetera anzi vi leggo direttamente la quarta di copertina Discepolo di Don Giovanni ma con un occhiuto senso degli affari e una robusta conoscenza dell'animo maschile oltre che di un vastissimo catalogo di corpi femminili Oswald Hendrix Cornelius è un raffinato viveur insaziabilmente devoto al culto del bello la sua avventura inizia da una scoperta accidentale che lo porta a conoscenza delle insospettabili virtù afrodisiache dello scarabeo vescicante sudanese complici il potente filtro d'amore e un incantevole partner d'affari di nome Yasmin Oswald tenta di rapire con destrezza il seme dei più grandi geni dell'epoca da Picasso a Freud da Proust a Puccini e molti altri ancora al fine di perpetuarne l'estro già apparso in due racconti che non conosco francamente il personaggio dello zio Oswald diventa ora protagonista di un intero romanzo un piccolo gioiello che ancora una volta consacra Roald Dahl maestro dello humor raffinato ecco anche un senso dello humor incredibile Dahl quindi davvero prima finisco altre letture poi chi lo sa magari sarà una delle letture di quest'anno perché è un peccato anche non conoscere il mondo di Roald Dahl dedicato più precisamente agli adulti ecco voglio vedere se c'è ancora il firouge della vendetta voglio vedere se c'è ancora qualcosa che rappresenta una rottura che è la rottura che più mi interessa all'interno del mondo della letteratura è la cosa che anche più mi affascina sono affascinata anche dal sentirmi colpita da ciò che leggo perché i sentimenti negativi hanno questa caratteristica quelli che vengono catalogati come negativi l'ira la vendetta ma anche l'odio il rancore eccetera ti fanno ragionare anche quando ti danno fastidio ti creano quel disagio mentre leggi ma anche quando vedi quando vedi un'opera scultorea cinematografica quando ascolti una canzone ecco quando un'opera ti trasmette un senso di rottura qualcosa ti dice questo non so cosa sto provando ma stride ti permette di ragionare ti permette poi anche di capire te stesso capire perché tu hai regito in quella maniera davanti a quell'opera capire chi sei è anche una questione di ricerca identitaria secondo me quindi viva il Roald Dahl non censurato viva i cosiddetti sentimenti negativi all'interno dell'arte ragazzi questo era quello che volevo dire spero di essere stata piuttosto chiara nel caso fatemi sapere nei commenti ditemi la vostra in merito a tutte queste tematiche fatemi sapere anche se amate Roald Dahl se fa parte del mondo della vostra infanzia dei vostri ricordi se vi rega ai vostri nonni per qualche motivo grazie mille per aver visto il video fin qui se ancora non siete iscritti al mio canale birbanti iscrivetevi assolutamente per non perdere i prossimi dedicati alla letteratura tra oscurità e provocazione se vi è piaciuto il video mettete un bel like per sostenermi io vi ringrazio bacione e alla prossima storia ragazzi ciao ciao